ecco qua ora siamo giunti a valle fritz e andiamo a prendere il 984 che ci porta verso 993 991 e piancanaie qua siamo all'intersezione con 991 noi ora andiamo su per il 984 a un certo punto si gira a sinistra perché il 984 scende verso ottambre piancanaie facciamo il giro torniamo su per col dei lovi poi fontana del fagher dalla fontana del fagher ci ricolleghiamo al 991 più o meno in quella direzione e torniamo indietro di qua quella è una grotta molto carina piccola stretta un po bassa si è lunga un 3 4 metri e c'è una cuspide al centro per cui se cadi dentro rimane impalato sulla cuspide e questa è la piana del consiglio quale tutta zona del pasco l'altasile quella l'altavia dei rondoi stiamo attenti qua in parte che è tutta un buco adesso qua questo dicevi beh fino in tutta la sua vita non gli inacciapavano del fulmine perché sennò non sarebbe intero e qua dovrei essere che la grotta qua a sinistra fosse un po più avanti eccola qua da qua quanto va giù non so quanto è profonda questa non molto però eccoci al bivio sentiero continua fino al 993 ma adesso noi prendiamo a sinistra per 984 piancanaie pensiamo che qua avevamo già degli inghiotti toghi al lato anche questo fatto in bici carino è da fare in bici questo qua forse 17009 e qua finalmente siamo entrati nel bosco l'erba un po più bassa molto bello si guarda qua che c'è anche un bello spiazzo qua veniamo a fare campeggio compriamo c'è una bella tenda da 50 euro al decathlon si perché adesso usa la sant'anna per cui sulla parte che sale verso tambra ma molto bello queste conifere le è bellissime fico a piante qua con le foglie larghe riconosci tu con la neve deve essere meravigliosa bellissimo questo è un punto brutto che dicevo ma salì più piano piano si le ho ma dovevo portar via le ghette dovevo portar via le ciabatte non avevo più spazio non avevo dove mettere la roba ma non vale la pena ti ho detto posso fare le robe portando via in bici per fare quel che non da fare devo capire cosa che posso portar via e cosa no quel che poi diventa superfluo e magari posso risparmiare spazio e peso per magari qualcosa tipo le ghette se le mi serve io vorrei a quell'ingoro tex si la nave viazione è vecchia per poter passare gli alberi bello ecco qua un'altra bella zona per piantare la tenda vedete che controllo anche un po la mappa per vedere a che punto siamo non dovremmo essere lontanissimi dalla forestale forse di mezzo chilometro qua ancora ci passi ma più avanti deve essere costruito completamente guarda che bella via qua mi ricordo che quella volta io ero andato su sul lato destro perché non non si poteva passare sotto ma può immaginare lunedì con la piova il nuvolo siamo solo noi caprioli i cervi i lupi i gorsi ecco qua abbiamo superato il canalone forse il punto più brutto è fatto poi deve essere più meno tutto così rapidamente si dovrebbe giungere alla strada forestale se non ricordo male perché quando sono venuto giù la prima volta non c'erano molti segni e l'unico segno nuovo che avevo trovato era uno di questi paletti subito dopo ho cominciato ad andare giù abbastanza spedito sciolto e poi la forestale sembra più un cipo di confine ma di quelli forestali qui siamo su pian delle seraie infatti guarda qua che già comincia a diventare una stradina una mulattiera ecco qua pian delle seraie un altro bosco fatato bel giro veramente questa è la strada delle seraie alla vostra destra abbiamo il zoccoi e alla vostra sinistra sopra la c'è il pian del scheo oltre poco a 900 metri raggiungeremo la strada del calvario alla nostra sinistra sempre qua a sinistra abbiamo la strada del calvario e qui ci sono indicazioni per l'antico troi dei cimbri quando sono venuto qua ho visto per la prima volta questa segnaletica e ho saputo che esisteva l'antico troi dei cimbri tutti questi troi dei cimbri sono tanti nostra signora del consiglio vediamo se c'è acqua facciamo un rifornimento dai e lo qualche cartello con scritto non potabile bene no 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 neanche dovreste portarli.